La Fede, cosa leggiamo qua sopra? Scambio Bernardeschi-Romagnoli. Allora, è una voce che si è diffusa quest'oggi e che ha trovato molte conferme, nel senso che c'è una logica dietro. Devo dire che ho dato un'occhiata un po' sui social per vedere le reazioni dei tifosi, sono tutti contrarissimi a questo scambio. Sia i gioventini che i milanini? Soprattutto i tifosi del Milan. I tifosi della Juve sono già molto più sul perché no, più interessati. Quelli del Milan sono furibondi perché Bernardeschi è un giocatore che negli ultimi due campionati si è clamorosamente svalutato. Era arrivato dalla Fiorentina, ha pagato 40 milioni, giocatore che aveva tantissime aspettative e poi le ha perse tutte perché ha fatto male obiettivamente in questi anni di Juve. Però perché dico che c'è una logica? C'è una logica dal punto di vista commerciale. Adesso ve la spiego. Intanto entrambi i giocatori sono di minoraiola, entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2022. Considerando che le due società, Milan e Juventus, in questo momento per motivi diversi non riescono ad arrivare a un rinnovo di contratto. La Juve perché non è interessata a farlo. La Juve vorrebbe cedere Bernardeschi, ma Bernardeschi ha un ingaggio molto alto, 4 milioni netti a stagione e questo di fatto lo rende incedibile. La Juve è già due anni che prova a cederlo e non c'è mai riuscita. Il Milan invece non vorrebbe cedere Romagnoli, vorrebbe rinnovargli il contratto, ma il problema è che Romagnoli chiede di passare da 2 milioni e mezzo che percepisce in questo momento a 6 e oltretutto lo fa in un momento in cui non è neanche più titolare perché Tomori gli ha rubato il posto. Quindi situazione difficile per entrambi i giocatori e per entrambe le società. Uno scambio va a risolvere tanti problemi. Intanto a bilancio si può mettere a segno una bella plusvalenza per entrambi. Se si decide di valutare i due giocatori una cifra alta, importante, entrambe registrano una plusvalenza. Dal punto di vista tecnico la Juve prenderebbe un centrale giovane nell'anno in cui magari va via Chiellini o comunque anche se resta non può più giocare tutte le partite. Il Milan prenderebbe un esterno offensivo che, ripeto, lo vedono tutti, viene da due anni negativi, ma probabilmente può essere meglio di Castiglieco. Adesso ne dico uno tanto per. E quindi la situazione è questa. Ora, non è che sia uno scambio che infiammi, però ha una sua logica un po' sotto tanti punti di vista e quindi è una situazione da monitorare. Allora Tiziano, Federico ci ha spiegato bene che a livello commerciale ha tutto il senso del mondo. Ma a livello tecnico tu lo faresti? Visto il rendimento di Romagnoli negli ultimi tempi lo farei. Lo faresti? Daresti quindi fiducia a Bernardeschi che viene da due anni due? Perché è un giocatore che non ha avuto un rendimento ottimale, è stato deludente pure lui. Però è un tipo di giocatore che al Milan serve, la punta esterna. Prenderebbe il posto di Castiglieco, la sulla destra. Fermo restando che gli acquisti del Milan punteranno su una punta e su un centrocampista e un difensore. Per quanto riguarda i difensori Tomori e Chier ormai sono una copia inammovibile, titolare al 100%. Romagnoli ha ampiamente dell'uso, soprattutto negli ultimi tempi. Quindi non mi dispiacerebbe se ci fosse questo scambio. Ci sta. Io credo che ci guadagnerebbe il Milan in un parametro zero, cioè praticamente in uno scambio. Perché Romagnoli ho la sensazione che quello che sia mancato in lui è la crescita. Cioè lui è arrivato con un giocatore giovane di buona prospettiva. Non è una sensazione, è una verità. No, ecco, a differenza magari di Bernardeschi che è messo nel suo ruolo può ancora darti qualcosa. Non vai a prendere un titolare, vai a prendere un Castigliego bis, quindi un giocatore che può esserti utile. Però c'è la sensazione che Romagnoli sia arrivato, cioè più di così non ti può dare. Ha ragione Marcello che magari in giro c'è qualcosa di meglio, anche perché lì è un gatto con gli inferiori. Vedi, anche la delicatezza del ruolo. Perché Bernardeschi può giocare anche male, ma non incide sul risultato di una partita. Romagnoli invece ha inciso con i suoi errori, con le sue prestazioni deludenti sul risultato del Milan. Proprio perché ha un ruolo molto delicato, quello di difensore centrale, l'ultimo baluardo difensivo. Fabio, chi ci guadagnerebbe? Grazie. 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 Grazie.